come sconfiggere il narcisista e vivere tranquilli e vivere sereni e vivere la propria vita tranquilla e serena senza avere il narcisista tra i maroni. Bene bene e allora e allora vediamo un po' intanto iscrivetevi al canale, attivate la campanella così riceverete la notifica dei nuovi video, seguitemi su tutti i canali youtube e vi ricordo di abbonarvi al canale e vi ricordo di insomma se volete dare un sostegno al canale potete potete darlo e salutiamo quindi Border, Patrizia Perotti la carampagnocca e tutte le persone che si collegano. Gracchia! Aspettiamo un attimo allora facciamo una cosa vediamo un po', cara carampana, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Allora ora ditemi se Gracchia adesso come si sente, ditemi come si sente adesso vecchie befane, ditemi come si sente, ditemi come si sente, ma veloci però, ditemi se sentite bene, adesso si dovrebbe sentire bene, però vorrei che mi scriveste ok. Allora vediamo un po', allora il termine narcisismo diciamo affonda le sue radici nella mitologia greca. Narciso come sappiamo era un giovane, un ragazzo di una bellezza straordinaria che però non dava affetto a nessuno, non si innamorava e secondo me però è stato anche edulcorata, no? Questa cosa perché comunque il narcisismo è un po' diverso da quello che racconta la mitologia e le persone manipolative. In fondo Narciso secondo me nella mitologia greca aveva tutto il diritto di non innamorarsi perché non è che noi siamo costretti ad innamorarci. E lui, di lui però si innamorò la ninfa Eco, si innamorò la ninfa Eco che era stata punita da Giunone e quindi non poteva parlare ma poteva solo ripetere le ultime parole delle altre persone. Quindi diciamo questa ninfa si innamorò perdutamente ma Narciso ovviamente non l'ha presa in considerazione. Così di nuovo le idee intervennero perché diciamo che queste idee rompevano il cazzo, rompevano i coglioni e Narciso venne era, era o Giunone, dipende, era o Giunone. salutiamo Roxy e quindi non essendo in grado diciamo il, diciamo venne, venne diciamo punito e gli venne somministrato un anatema per cui ogni volta che, cioè se lui avesse visto il suo viso si sarebbe innamorato insomma. E quindi guarda il suo viso in uno stagno e si innamora neanche di lui stesso ma del suo riflesso. Questa è una cosa importante perché noi non riusciamo mai a vedere il nostro viso, si innamora del suo riflesso e praticamente poi cade in acqua e da lì poi in acqua un bel fiore insomma e muore in questo modo. E secondo me comunque Narciso aveva tutti i diritti di non innamorarsi fondamentalmente. Ovviamente nella, questo tratto diciamo, salutiamo la nostra greenettina, Green Apple, poi tra l'altro questa eco non credo che fosse stata neanche una gnocca e quindi comunque di fatto dobbiamo tenere presente che però i narcisisti poi nel modo di fare quotidiano tendono a essere manipolativi, cosa che non credo fosse il Narciso della mitologia greca. La nostra greenettina, Green Apple, è importante sottolineare diciamo che i narcisisti comunque hanno questa caratteristica fondamentale e si manifestano insomma. Diciamo che non dobbiamo confonderlo con l'autostima perché spesso noi confondiamo le persone manipolative con persone che hanno autostima. Le persone che hanno autostima sono persone assertive, sono persone che hanno ottima capacità di perseguire i loro sogni, i loro obiettivi, ma che sono consapevoli dei loro limiti che non vogliono manipolare nessuno, non denigrano, non svalutano nessuno. Quindi non è che dobbiamo, salutiamo Rosi, non è che dobbiamo considerare una persona decisa, forte, come manipolativa, perché anzi, ma neanche dire narcisismo sano, perché queste sono persone con una forte autostima. La forte autostima è un tratto positivo, un carattere positivo, anzi tutti noi dovremmo sviluppare una forte autostima. Il narcisista invece ha un senso di superiorità esagerato, no? Perché se io autostima, come dire, stimo me stesso e stimo gli altri. Certamente se ho autostima non vado in conflitto con le altre persone per assenza di motivazione, diciamo. Anzi, esattamente il contrario, le persone che hanno autostima cercano in qualche modo di aiutare gli altri. Quindi le persone che hanno autostima non sono neanche sensibili alle critiche, no? Mentre invece il narcisista, un'altra caratteristica, è proprio sensibile alle critiche, no? Cioè, ma non critiche negative, ma anche chi ti dice, no, io non sono d'accordo con te. Quindi il narcisista o il manipolatore non tollera chi gli dice, io non sono d'accordo con te, perché vogliono avere, tra virgolette, sempre ragione. Quindi noi questo dobbiamo tenerlo presente. Che autostima non richiede ammirazione eccessiva, come invece i manipolatori, i narcisisti richiedono, no? E tra l'altro poi, teniamo presente che al di là del narcisismo o meno, ci sono tutta una plettora di persone che sono, diciamo, sfruttatori nelle relazioni interpersonali. Prendono quello che vogliono senza riguardo ai sentimenti, senza riguardo alle esigenze degli altri. E questo è la cosa negativa del narcisista. Hanno una mancanza di empatia totale. Sono, come dire, riluttanti a riconoscere, identificarsi con i sentimenti, con i bisogni degli altri. Hanno questa caratteristica. Poi i narcisisti sono spesso invidiosi degli altri e tra l'altro credono che gli altri li invidino. Quindi, quindi, in un momento in cui tu riesci a riconoscere, insomma, un po' di queste caratteristiche, hai già fatto, hai già fatto tanta cosa. Perché poi il controllo. Il controllo è un altro elemento chiave che devi imparare a distruggere. Devi imparare a distruggere proprio il narcisista sul controllo. Perché i narcisisti sentono il loro bisogno, hanno bisogno di avere il controllo sulle persone e il controllo permette loro di sentirsi sicuri, no? Di avere l'immagine di sé che vogliono proiettare nel mondo. Quindi, cara malgaciona, cara campana, hai una potente arma per sconfiggere il narcisista e per riprendere invece tu il controllo sulla tua vita. E questo è un punto fondamentale. Puoi riprendere il controllo sulla tua vita. Ed è molto importante. Quindi il narcisista, se tu non ti fai controllare, se tu, come dire, lo sfanculi sul controllo, lo sfanculi, gli impedisci di sentirsi sicuro, gli impedisci di mantenere l'immagine di sé che vogliono proiettare. E questo è un punto fondamentale. E poi un altro obiettivo, diciamo, centrale del narcisista è, diciamo, il fatto di non farti manipolare. Anche qua il narcisista aspira al potere, cercano il potere, il dominio sull'altra persona. Per cui, vuoi sconfiggere il narcisista? Non farti dominare. Non farti dominare. Vuoi sconfiggere il narcisista? Il narcisista ha bisogno di ammirazione, no? L'ammirazione potremmo dire che è il carburante del narcisista. Il narcisista ha bisogno sempre, no? Cercano complimenti, sono esagerati in questo e quindi tu non devi fargli nessun complimento. Zero complimenti al narcisista per poterlo sconfiggere, per poterlo battere, per poterlo, tra virgolette, annientare, per poterlo distruggere. Quindi la manipolazione narcisistica è il mezzo, diciamo, che i narcisisti poi utilizzano per avere il controllo, per mantenere il controllo, per avere potere, per avere ammirazione. Quindi comprendere questi aspetti può aiutare a riconoscere e a rispondere al narcisista, rispondere alla manipolazione del narcisista stesso, rispondere alla sua manipolazione è molto importante. Tra queste manipolazioni, appunto, troviamo il narcisista che ti produce stress, che ti produce ansia, non devi lasciarti stressare. Il narcisista che ti produce sensi di colpa, un narcisista può usare il senso di colpa come strumento di manipolazione, un narcisista può usare la tecnica della confusione, le tattiche come ad esempio il gaslighting, e cercare di renderti dipendente effettivamente. Quindi devi trovare la tua forza interiore. È importante, secondo me, identificare anche i narcisisti online, perché noi viviamo in un'epoca, nella tecnologia dei social, dove voi malgascione, anche le carampane, spesso, sia le malgascione che le carampane vanno a incontrare uomini online, o uomini vanno a incontrare donne online, no? Quindi, ovviamente, dobbiamo tenere presente che i narcisisti digitali, potremmo definire i narcisisti digitali, si manifestano, no? Quindi, tra l'altro, si può manifestare in vari modi, si può riconoscere in vari modi, non una persona con la quale interagisci da un punto di vista digitale. Ad esempio, sono persone che costantemente mettono nei social immagini di sé. Cioè, quelli che mettono solo immagini di sé, non è che postano qualcosa, sono immagini di sé con argomenti banali, soprattutto ostentando successi, soprattutto ostentando esperienze, far vedere che hanno qualcosa di particolare. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è ottenere validazione, ammirazione, no? dei follower. Spesso si traduce in un flusso costante di selfie. Cioè, non è che uno fa un selfie ogni tanto, posta la foto del selfie, no? Questi hanno solo, esclusivamente, selfie. O dove postano, magari, delle cose che hanno, no? Magari si fanno vedere con la macchina, magari manca il loro, no? Magari l'hanno presa a noleggio, magari manca l'hanno presa a noleggio, magari sono andati dentro il concessionario, no? Dentro il concessionario Ferrari, si siedono sulla Ferrari, si fanno un selfie. Per fare un esempio, no? Quindi, e cercano di manipolare attraverso i social media, no? Creare una realtà virtuale, creare una realtà artificiale. Creano false narrazioni di sé, che sono veramente molto lontane dalla realtà. Manipolano le immagini, creano storie false, creano cose esagerate, ostentano beni materiali, che probabilmente sono di proprietà altrui, tra l'altro, no? Di proprietà altrui. Auto, moto, case, eccetera, eccetera. Quindi il narcisismo digitale, anche l'autopromozione, no? Una realtà parallela, anche l'autopromozione, no? Un fattore chiave del narcisismo digitale. Quindi fai attenzione che quando incontri queste persone, che ostentano nei social, non dico che siano narcisisti, però, insomma, levateli un po' dai coglioni. Anche perché poi le persone veramente benestanti, le persone che hanno veramente una posizione sociale, ostentano poco. Perché è una delle caratteristiche fondamentali, poi, delle persone che hanno una posizione sociale interessante, è quella di essere persone, diciamo, anche benestanti, fondamentalmente modeste. Quindi, insomma, puoi riconoscere anche da questi tratti, no? Il narcisista nei social. Io ti consiglio di, quando incontri personaggi di questo genere nei social, mandali subito a fanculo, non stare a perdere tempo, perché tanto non otterrai nessun... Soprattutto quelli che poi, ad esempio, triangolano, no? Ci sono subito persone che iniziano a triangolare nei social, ma i narcisisti, questo è un altro tipico modus operandi del narcisista. Salutiamo anche Dario. È un altro tipico modus operandi del narcisista, quello di, come dire, triangolare. Noi, i narcisisti triangolano sempre. I narcisisti triangolano su tutto, fondamentalmente. Hanno un po' questa caratteristica di, diciamo, di triangolare, hanno un po' questa caratteristica e lo fanno praticamente costantemente, no? Non è che mollano la presa. Hanno proprio questo modo di fare. Quindi ti metteranno da subito delle antagoniste. Ora, gli antagonisti hanno un loro senso se c'è una motivazione, fondamentalmente, no? Se c'è una motivazione, l'utilizzo degli antagonisti può essere utile, ma di fatto il narcisista lo fa senza nessuna motivazione. Cioè non è che ha una motivazione reale per dire, diciamo, devo triangolare. Lo fa semplicemente per il puro piacere di controllare, di governare le altre persone. Quindi questo è un punto molto importante, no? Che tu devi tenere presente questo. Quindi, ed è un segnale anche molto forte. Sento gracchiare? Sentite ancora gracchiare? Perché mi dicevano che si sentiva bene. Salutiamo il nostro Crezzi Robby. Sentite gracchiare? No, io non sento gracchiare. Comunque mandatici da solo. Bravo Crezzi. E poi, diciamo, che il narcisista nega, mente, proietta. Sono tre caratteristiche fondamentali dei narcisisti. Negare. Negare, diciamo, negare. Rifiutano di riconoscere o accettare la responsabilità dei propri comportamenti. E questo è un altro dato di fatto, no? Rifiutano la responsabilità. E quindi tu, se hai a che fare con un narcisista, come minimo sarai sempre colpevole. Utilizzano spesso la proiezione. Cioè tendono a proiettare i propri difetti, insicurezze sugli altri, su di te in questo caso. E anche, diciamo, l'omissione selettiva, no? Perché l'omissione selettiva è di fatto una menzogna. Anche se magari le persone non la vedono come una menzogna, ma l'omissione selettiva di fatto è una menzogna. Diciamo, l'omissione selettiva sono persone che in qualche modo omettono, omettono, e questo omettere, diciamo, fa sì che praticamente tu non sai, no? molte cose. Alcuni narcisisti poi si presentano come vittime, il vittimismo, no? Per ottenere simpatia, empatia dalle persone e questo può portare ovviamente gli altri a soprattutto le crocerossine. Ma poi ti generano bassa autostima, ti generano dipendenza affettiva, hanno un po' tutte queste caratteristiche generano anche ansia fondamentalmente alle persone quando le persone interagiscono. Salutiamo fiammella. Quindi una caratteristica chiave, diciamo, dei manipolatori narcisisti, tra virgolette, e di quelli che sono meno narcisisti, è proprio la l'intensità e la costanza. Cioè il narcisista è costantemente ti manipola, il narcisista costantemente rompe i coglioni, costantemente come dice la nostra carampa gnocca, Patrizia Perotti, ti fa sentire inadeguato. E poi c'è un'altra differenza fondamentale tra persone che magari interagiscono così e persone invece fortemente manipolative. È l'intenzione. L'intenzione è un altro punto fondamentale, no? è una distinzione cruciale questa perché la manipolazione di fatto in alcuni casi può essere un comportamento che si verifica in molte relazioni interpersonali, no? Però il narcisista o il manipolatore seriale proprio ha l'intenzione e lo fa costantemente ha un'intenzione di danneggiarti, ha un'intenzione di farti stare male e poi ha una mancanza di empatia totale, no? Mentre alcune persone magari utilizzano un po' di strategie manipolative ma magari si sentono anche in colpa loro, il narcisista o il manipolatore seriale assolutamente non si sentirà mai in colpa e avrà un impatto diciamo molto più devastante ovviamente, estremamente negativo. Quindi ovviamente tra il narcisista e il codipendente si crea un legame insidioso perché spesso voi fate un patto scellerato col narcisista. Diciamo che il patto scellerato col narcisista lo fanno quelle persone come voi ad esempio che avete paura di restare da soli e quindi sperimenterete diciamo tutta una serie di paure dalla paura dell'abbandono però ripeto se tu vuoi sconfiggere il narcisista e questo dovrebbe essere l'obiettivo non devi sperimentare nessuna paura non devi proprio avere paura soprattutto non devi avere paura della paura cioè altrimenti ti farà sperimentare tutta una plettora di paura dalla paura dell'abbandono che è una delle caratteristiche dominanti delle persone che hanno paura di rimanere da sole e devi imparare a vivere da sola è fondamentale imparare a vivere da soli poi ti impedirà di prendere decisioni quindi inibirà la tua capacità decisionale e noi sappiamo che nella nostra vita ci sono due cose che sono molto importanti che se non decidiamo andiamo in crisi identità quindi dobbiamo avere il nostro potere decisionale e poi dobbiamo avere il potere di conquista altrimenti entriamo in crisi esistenziale e quindi queste due crisi che vivrai inesorabilmente se non imparerai a sconfiggere il narcisista ti genereranno mancanze di autostima ma non sarai neanche più autonoma come persona perché sarai dipendente dagli altri no? quindi cerca di non fare la crocerossina non sei della fate bene fratelli quando c'è qualcuno che ti dice eh ma qua eh ma là tu pensa io non sono della fate bene fratelli non sei della fate bene fratelli quindi questo devi tenerlo presente è un punto importante non appartieni alla società fate bene fratelli devi fottertene quindi ci sono queste fasi che voi dovete tenere presente in cui il narcisista diciamo si allontana e poi emotivamente perché lui vuole avere il controllo ecco un'altra cosa che devi fare quando viene avviene la fase dello scarto devi fottertene devi fottertene se lui ti scarta vai accendere un cer alla madonna vai in chiesa accendi un cer alla madonna poi vai dal prete difendire la messa è morto mario è morto mario e te ne sbatti i coglioni questo è quello che devi fare non devi accettare insomma di vivere degli stati d'ansia degli stati di negatività diciamo che la consapevolezza è fondamentale per poi poter sfanculare i narcisisti perché se non siamo consapevoli è morto mario viva mario se non siamo consapevoli non abbiamo non abbiamo nessuna non abbiamo nessuna possibilità e invece la consapevolezza sto facendo tanti video anche dove dico queste cose quindi tenete presente che la dipendenza affettiva non è una forma di amore autentico cioè non è che tu se sei dipendente affettiva vivi un amore autentico non è un amore autentico mentre invece l'amore per se stessi deve essere autentico e questo è un altro punto molto importante da tenere presente perché se confondiamo la dipendenza con l'amore siamo quindi devi imparare a tenere duro affermare fortemente le tue esigenze impara per sconfiggere il narcisista devi affermare le tue esigenze uno dei modi è quello di essere assertivo non mi devi cagare il cazzo non mi devi rompere i coglioni vaffanculo questo è quello che devi dirgli dirgli di no impara a dire di no proteggi il tuo tempo che è importante sei già anziana non sei più giovane ogni giorno che passa è un giorno di meno da vivere e non sai quanti ne resteranno di giorni pensate che mediamente le persone vivono 80 anni e sono diciamo 30.000 giorni circa 30.000 giorni se tu hai 40 anni ce ne sei già bruciata 15.000 se tu hai 60 anni te ne sei già bruciata diciamo altri 7.500 e quindi andiamo a 22.500 a 60 anni hai consumato 22.500 giorni e quindi 22.500 giorni sì e quindi una volta che sei arrivato a 60 anni ti restano semplicemente 7.500 giorni se vivi 80 eh tenendo presente che tu possa vivere 80 anni quindi 7.500 giorni non è che sono tutta questa cosa e quindi ogni giorno che perdi sempre se vivi 80 anni eh poi se vivi di più tanto come dire i giorni in più che vivi eh insomma sei già sei già fuori insomma non è che eh quindi ho già consumato un sacco di chili eh esatto esatto eh quindi bisogna utilizzare al meglio questi giorni insomma quindi esprimi quelle che sono proteggi il tuo tempo e il tuo spazio è un punto fondamentale e manda affanculo rapidamente fondamentalmente cerca soltanto di frequentare persone che ti danno benessere cerca eh di frequentare persone che ti danno positività cerca di frequentare persone con le quali ti trovi bene fondamentalmente una volta che hai riconosciuto diciamo le tattiche narcisiste eh un modo per diciamo sconfiggere e disinnescare per disarmare il narcisista è diventare diciamo indifferente a quello che fa il narcisista non cadere nelle provocazioni non cadere nelle nelle cose negative non cadere niente devi diventare totalmente indifferente poi puoi diciamo provare a giocare un po' con il rinforzo intermittente se vuoi ma devi assolutamente evitare di giustificare il narcisista argomentare le cose che il narcisista dice difenderti attraverso un'argomentazione perché tanti il narcisista è lì che ti vuol portare tu devi semplicemente invece dare indifferenza rifiuto e abbandono punto e ovviamente devi cercare di dare forza a te stessa quindi ti suggerisco di utilizzare le tecniche di respirazione di meditazione per dare forza per dare energia a te stessa il mindfulness è importante no? anche lo yoga la meditazione sono tutte cose che ti possono aiutare a difenderti da una relazione tossica a sconfiggere fondamentalmente il narcisista e a recuperare quelle che sono le tue chance quelle che sono le tue possibilità di vivere questi ultimi giorni in modo felice bene detto questo mettete un like iscrivetevi al canale fate una donazione al canale se volete abbonatevi al canale e ci vediamo al ci vediamo al prossimo al prossimo video